Tomas, ancora un grande risultato e tu puoi essere orgogliosi di te stesso e magari troppo combattere con i tuoi amici Sì, c'era un po' combattere nella finalità in P6 e poi riuscite a seconda non avevamo la pace ma la seconda è buona felice per il weekend e sono molto confidante con la prossima campeonata europea E' questo un po' strano, in tua opinion compared to the other one we competed in the beginning of the year? Ah, well, it's a lot tighter a technical track that came pretty much crippling the track it's just a lot tighter than the other tracks Congratulation, well done, bravo!